La prossima estate il Barcellona potrebbe essere costretto a salutare uno dei suoi giocatori simbolo, Ivan Rakitic, a lanciare quella che potrebbe essere ben più di una semplice indiscrezione Catalunia Radio per l'emittente spagnola. Infatti il centrocampista Blaugrana avrebbe già messo in vendita la sua casa e iscritto la figlia in un collegio della Francia. Già perché da quanto trapela la nuova dimora del croato potrebbe essere il Paris Saint-Germain. L'intesa con il Barcellona sarebbe arrivata sulla base di una cifra inferiore ai 125 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria del contratto. Per vedere il metronomo all'ombra della Tour Eiffel potrebbe essere solo questione di tempo. Dopo Palermo, Napoli e Parigi la prossima destinazione di Edinson Cavani potrebbe essere Madrid. La sponda non è quella blanca del Real di Florentino Perez ma quella bianca e rossa dei Colcioneros del Ciolo Simeone. L'atletico Madrid starebbe infatti cercando un attaccante. Il Matador sembrerebbe essere il profilo perfetto per tutta una serie di caratteristiche. Il club di Enrique Serezo, secondo quanto riporta France Football, è pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per convincere il bomber a lasciare la Francia. 8 gol e 5 assist per un inizio di stagione davvero incredibile mai visto fino a questo momento. In questi primi mesi di campionato Fabio Quagliarella, 35 anni suonati, sta dimostrando tutto il suo valore, attirando su di sé gli occhi di molte squadre, fra cui anche alcune big del nostro campionato, come ad esempio il Milan di Rino Gattuso. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e rischiare di perderlo a zero non fa parte dei piani del club blu cerchiato. Per questo il presidente Massimo Ferrero avrebbe dato il suo via libera per procedere verso il rinnovo di contratto. Ma se in un primo momento la Samp gli avrebbe proposto uno stipendio inferiore rispetto a quello attuale, ora le carte sono cambiate. Per convincere l'attaccante a firmare e a restare nel capoluogo Ligure, Ferrero metterà sul piatto una cifra vicina al 1.200.000 euro. Per quanto riguarda la durata è probabile che sia soltanto di un anno, anche se non è da escludere un'opzione per la stagione 2020-2021, ipotesi che potrebbe essere ben accolta dallo stesso giocatore che più volte ha espresso la volontà di chiudere la carriera a Genova. In Spagna le prossime settimane saranno decisive per il futuro del Siviglia, un destino che potrebbe incrociarsi con quello della Roma. Secondo il giornale spagnolo AS, il passaggio di proprietà del club dovrebbe avvenire con diversi investitori interessati a rilevare, per una cifra fra i 200 e i 250 milioni di euro, il 70% delle azioni in mano al gruppo di maggioranza. C'è però un elemento chiave avanzato dai potenziali compratori, ovvero il ritorno di Ramon Monci come direttore sportivo. Joaquin Caparios, oggi direttore tecnico degli Andalusi, ha ammesso nei giorni scorsi di aver provato a convincere l'attuale direttore sportivo della Roma a tornare, ma Monci non sembrerebbe interessato a lasciare il club giallorosso. In Spagna però restano convinti che con una nuova proprietà, a fine stagione, Monci potrebbe prendere in seria considerazione il ritorno nel club che lo ha lanciato come direttore sportivo.